Ciao, io sono Michelle e sono al terzo anno della Facoltà di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria. Studiare la stagneria per me ha significato molte cose, mi ha permesso di concretizzare le mie passioni studiando ciò che mi piaceva davvero, ma soprattutto attraverso un rapporto molto costruttivo con i professori che ancora lavorassero all'interno dell'Ateneo. Infatti mi sono sempre sentita parte integrante di una comunità vivace, accogliente e soprattutto variegata con studenti che arrivano da tutto il mondo. L'Ateneo inoltre mi ha offerto tantissime opportunità, ad esempio al secondo anno ho avuto la possibilità di fare l'Erasmus e ho trascorso sei mesi in Francia. È stata un'esperienza veramente costruttiva, prima di tutto a livello umano e devo dire che l'università non mi ha mai abbandonata, mi ha sempre seguita in ogni mio passo, devo dire anche con molta pazienza e quindi sono assolutamente orgogliosa della scelta che ho fatto e spero che sia lo stesso per voi. Vi aspetto alla stranieri, ciao!